ciao ragazzi eccomi qua abbiamo una grande sorpresa aspettavamo con trepidazione questo pacco ma andiamo subito ad aprirlo e scopriamo cosa c'è via con la prima abbiamo un minuto e trenta per dirvi tutto allora cosa c'è qua dentro wow un casco ci siamo messi a vendere cose tecniche per le moto no però guardate qua tante robe guardate qua bene questo ricordatevi questo marchio poi ci sono anche i guanti e pure la visiera come si mette beh andiamo avanti veloci 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 allora questo è un casco lo mettiamo qua poi pronti abbiamo tre di uno sia vai casatissimi casatissimi wow guarda cosa c'è qua dentro tutti i serengeti cos'è serengeti qualcosa da mangiare no qualcosa da bere no molto ma molto di più occhio guarda wow tecnologia americana serengeti lenti al vetro borosilicato il massimo della protezione da sole guarda che bello che sono poi guarda una roba guarda la roba guarda col casco quanto tempo abbiamo ancora non ci vedo bene 34 secondi guarda poi non è solo questo c'è anche un altro aspetta 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 che apriamo questo apriamo questo aspetta dov'è 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 ecco qua prendiamo questo ecco questo questo abbiamo questo è tanta roba qua guarda fricchetto ma non abbiamo solo questi è perché abbiamo anche altre cose per i bambini ve li facciamo subito vedere pronti 3 2 1 via per chi ama lo sport per chi ama gente energica e noi il pop e molle non li sappiamo ok l'occhiale sebe per lani per sci per corsa quanto tempo abbiamo ancora finito finito tempo velocissimi ora questo primo modello gli altri aspettiamo quel negozio mi raccomando entrare con il casco senza casco non vi vogliamo ciao